Sono 40 e nuovi casi di covid registrati oggi in Abruzzo. Il più giovane tra i contagiati ha tre anni, il più anziano ne ha 74. Di questi uno proviene da fuori regione, otto sono residenti in provincia di Chieti, cinque in quella di Terramo e altrettanti nel Pescarese. Ben 25 invece sono residenti nell'Aquilano. Ancora una volta infatti la ASL 1 ha recuperato delle positività precedentemente perse per strada tracciando 18 contagi avvenuti tra il 14 e il 22 di maggio che non erano stati puntualmente registrati a causa di un disservizio informatico. 4.095 tamponi molecolari processati nelle ultime ore, due morti di cui un decesso avvenuto nei giorni scorsi. E con gli ultimi 122 guariti attualmente in Abruzzo sono 5.824 i positivi accertati, 84 in meno rispetto a ieri. Di questi 176 pazienti, 7 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 17 sono quelli in terapia intensiva, nessun ricovero e nessuna dimissione nelle rianimazioni covid nelle ultime 24 ore. Gli altri 5.631 positivi, 77 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.